bello della notte anche questo una passeggiata al fresco mentre dentro va in onda la musica adesso torno in studio 1.37 questa è Rai Isoradio Alessandro De Gerardis Augusto Sabatini alla parte tecnica rivediamo le notizie andiamo sulla 13 incidente ricordiamo al chilometro 69 tra Rovigo e Villa Marzana Rovigo Sud in direzione Sud Bologna altro incidente senza repercussioni sulla viabilità in cui è coinvolto un camion tra Boara e Monselice sulla 13 chilometro 79 direzione Nord Padova 3 chilometri di coda le code stanno diminuendo sulla 1 tra Rioveggio e Pian del Voglio verso Firenze e code per cantiere di lavoro così come sono per lavori le code di un chilometro sulla 1 tra Firenze Sud e incisa Reggello in direzione di Roma tra i chilometri 308 e 309 andiamo poi sulla 25 ricordando la chiusura a lungo termine di bussi popoli in uscita per entrambe le provenienze di apertura prevista il 15 settembre l'uscita consigliata da Pescara e Torre dei Passeri per chi proviene dalla 24 a Roma Teramo invece quella di Pratola a Peligna sta piovendo in a 23 tra Ponteba e Tavrisio Nord piove sulla 16 tra Candela e Bivia 14 pioggia sulla 3 tra Nocera Sud e Salerno 348 103 10 10 per i vostri sms da scrivere naturalmente in sicurezza non è vero che per l'euro che per l'euro ma è vero Grazie.